Supermarket col botto allicata, i carabinieri sequestrano una vera e propria Santa Barbara, ben 1140 confezioni di prodotti pirotecnici, 42 batterie di supporto per il lancio dei fuochi, inneschi di vario genere e pericolosissime bombe carta. Questo l'armamentario proibito, trovato dai carabinieri in due distinti depositi, ricavati in un garage e nella cucina di due condomini allicata. In tutto oltre tre quintali di giochi pirotecnici proibiti, contenenti pericolosissimo materiale esplosivo, illegalmente detenuti e destinati a finire sul mercato nero in occasione delle ormai prossime festività natalizie e di fine anno. Botti di ogni genere, molto pericolosi a causa dell'elevato potenziale esplosivo, costituito dal considerevole contenuto pirico degli artifici, erano così pronti alla vendita in un vero e proprio supermarket allistito all'interno di un garage, in una cucina di due distinti stabili in pieno centro abitato allicata. È stato perfino necessario l'intervento degli artificieri antisabotaggio, unità speciale dei carabinieri per mettere in sicurezza l'ingente quantitativo di esplosivo trovato e scongiurare inneschi accidentari che avrebbero potuto danneggiare gravemente gli interi immobili. Le manette sono così scattate ai porsi di un impiegato ingenzurato di 33 anni, licatese, il quale con l'accusa di detenzione illegale di esplosivi è finito al carcere Petrusa di Agrigento. L'operazione, che rappresenta uno dei più grossi sequestri mai effettuati a fine anno in provincia di Agrigento, rientra in un piano di controlli straordinari disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento al fine di rendere più sicuri i festeggiamenti natalizi di fine anno. In un colpo solo sono stati così tolti dal mercato nero pericolosissimi fuochi illegali il cui maneggio sarebbe stato molto pericoloso e che avrebbero fruttato un guadagno di svariate migliaia di euro.